buongiorno ragazzi buongiorno oggi ci vediamo delle cose veramente che mi toccano nel profondo perché ho visto questi vabbè mo ve lo faccio vedere e tagliamo la testa al toro ragazzi questo allora è un tizio che è andato pure in televisione un po di tempo fa ok voi direte ma chi cacchio è questo tizio questo tizio si è aperto un canale youtube si chiama roi il gigolò ok i consigli di roi per tradire meglio ora ditemi voi se questo qua è un video normale io la gente che fa queste cose che tra l'altro è una cosa che mi colpisce nel profondo perché io dovete sapere appunto sono stato tradito in passato e ho sofferto tantissimo io pensavo di sposare quella persona e poi c'è gente come questo tizio che ti spiega come tradire meglio e non essere scoperti ora ditemi uno come livio poverino come si deve sentire in una situazione del genere tutti i traditori e tutti quelli che lo diventeranno questo è un video che invoglia a tradire oppure lei è una testa di pene lei che fa del tradimento una sorta di arte infatti cioè ti rendi conto quanto siamo caduti proprio in basso cioè questo è il punto più basso che io abbia mai visto cioè queste persone rovinano la vita alle altre cioè un'arte ma sei pazzo ma stai bene magari ho sentito male questo è un video per tutti i traditori e tutti quelli che lo diventeranno questo è un video che invoglia a tradire oppure che fa del tradimento una sorta di arte infatti il titolo di questo video io mi sento male non so se ce la faccio ad andare avanti ormai su youtube non hanno più content non è su youtube ma sicuramente ci sarà qualcuno anche su twitch arriveranno ovunque ovunque questi tizi arriveranno perché non c'è mai fine al buco nero del content schifoso vabbè il video è come tradire senza essere scoperti partiamo dal presupposto che tradire è un'arte ma cosa stai dicendo? capisci? Michelangelo ha fatto dell'arte non lo so Botticelli ha fatto la venere l'ha dipinto quella è arte tradire non è un'arte Milo mentre scolpiva la venere nel marmopario quella è arte non tu no Van Gogh Leonardo da Vinci grandi tecnici non tu se voi vedete c'è proprio qua la categoria dove ti spiega tradire un'arte perché vedete se voi andate qui ci sta tipo le sei regole bla 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 ci va a capitoli il video no? e questo capitolo è tradire è un'arte c'è l'ha proprio pensata bene lui capito? vabbè andiamo avanti ci riescono molti lo fanno con nonchalance e sono i migliori perché il vero traditore è quello che non ci mette la testa quindi tradisce sapendo che quel tradimento è fine a se stesso non ci mette il cuore quindi difficilmente si innamora bisogna tradire così vietato tradire grazie maestro lei è veramente il massimo con il cuore e coi sentimenti infatti questo è un errore che molto spesso fanno le donne una donna che viene scopata bene già al secondo appuntamento tende ad innamorarsi un uomo invece ma cosa stai dicendo? ma cos'è sto sessismo? cioè dir lui se una tizia viene bombata bene due volte si innamora ok è incredibile è incredibile guarda che anche noi uomini abbiamo dei sentimenti eh ci tengo a dirlo ce ne ha circa sei di appuntamenti per passare questa soglia dell'infatuazione ma è proprio cioè io pensavo un paio no no lui è proprio cioè sei non è un numero a caso perché uno dice cinque, dieci, quindici, venti, cento sei è un numero preciso quindi lui se l'è studiata sta cosa invece ne ha circa sei di appuntamenti per passare questa soglia dell'infatuazione e dell'innamoramento adesso con tutte queste tecnologie che ci sono tradire diventa facile ma difficile non farsi beccare ah grazie per quelli come noi incapaci se sei un novello traditore io questo lo voglio ospite ve lo dico subito e sarà uno scontro epico se viene promesso qui io lo invito oppure sei uno che già lo fa da un po' e però si è fatto già beccare non cadere in errori da principianti io qui eliancherò sei regole per non farsi beccare quando si tradisce ok ascolta bene questo è utile per noi questo è molto utile per noi perché guardando questo video noi possiamo ovviare a questi trucchetti che usano non so se mi sono spiegato prima regola non parlare mai con nessuno questo purtroppo è un errore che fa come fai a portarti se non parli comunque vabbè vabbè lui mi immagino non parla con nessuno zitto sempre non parla di quello con qualcuno non parlare in generale non molti uomini gli uomini sono dei chiacchieroni quando tradiscono tendono a parlare con un amico oppure in palestra nello spogliatoio oppure si vanta di questo questo tecno tu se vuoi entrare su discord a te t'accetto perché secondo me ne puoi capire a pacchi si vanta di questo questo è un errore da non fare ricordatevelo sempre le donne da questo punto di vista sono molto più astute però anche loro a volte si lasciano andare con la loro migliore amica e poi non è detto che questa migliore amica duri nel tempo e poi magari tra un anno o due si viene a sapere un tradimento che ha effettuato magari due anni prima specialmente le amicizie tra donna e donna che si sa che sono come giorno sì un giorno no un giorno forse ma due mesi chissà oh amorino ti voglio tanto bene guarda quella testa ti verte no scherzo scherzo sto scherzando non dico sul serio quindi meglio non parlare con nessuno seconda regola il luogo del tradimento quando dovete tradire non portate mai la partner o il partner magari a casa che la casa può essere un luogo dove si può lasciare facilmente delle tracce che ne so un capello se ho la donna magari lascia il rossetto qualcuna lascia anche le mutande in giro magari lo fa anche per rispetto perché vuole che la moglie sappia quindi quando tradite e quando dovete fare un incontro con la vostra tromba amica non portatela a casa vostra perché potrebbe essere pericoloso e si può lasciare tracce anche non volendo grazie terza regola messaggistica whatsapp quando memorizzate il nome della vostra amica della vostra tromba amica mi raccomando memorizzatelo con un nome che non sia proprio il suo magari nascondetelo sotto un'altra attività e poi state attento quando lasciate in costruzione state attento i telefoni perché se vi faccio un esempio andate in doccia e lasciate il telefono sul tavolo e in quel momento la vostra tromba amica vi messaggia qualcun altro vedrà la notifica quindi in questi casi bloccate il numero della vostra tromba amica o del vostro tromba amico affinché non possa mandare un messaggio e nessuno potrà vedere l'eventuale notifica jessico calcetto vedo che tutti vi siete attivati giustamente perché jessico calcetto è proprio il classico esempio ma io mi ricordo quando sono stato tradito io che appunto lei aveva salvato questo tizio con un nome diverso lei mi ha dato il telefono io ho cercato perché me l'ha dato lei davanti a lei perché io avevo capito che c'era qualcosa che non andava ho detto senti senza che sto qua tre ore a cercarlo mi dici con che nome l'hai salvato e poi me l'ha fatto vedere lei no no probabilmente lo seguiva perché aveva cambiato il nome quindi aveva seguito le regole in questa maniera però a me queste cose mi mettono proprio lo schifo addosso mi sento proprio sporco il fatto che ci siano anche canali così è proprio vergognoso quarta regola non cambiatevi e non lavatevi più del previsto più del solito molte donne hanno il vizio di farsi belle la sera escono il marito si può insospettire cercate di adoperare le stesse abitudini se avete un trombamico e la sera uscite fate finta che andate dall'amica ma dall'amica andateci in tuta sportive perché se vi tirate tutte col tacco 12 ovviamente il marito si insospettisce e nel caso anche dell'uomo un uomo che non si lava mai o si lava una volta a settimana ultimamente si lava molto spesso si pettina si fa bello si fa la barba esce tutte le sere è ovvio che la moglie può intuire che c'è qualcosa sotto certo che era successo qualcosa certo che era successo qualcosa con che incredibile quinta regola non fate promesse ai vostri trombamici non fate quelle fusioni romantiche io ti amo io vorrei stare con te non fate promesse in quel momento lo so che lì è difficile non farle perché c'è la passione c'è l'amore c'è il coinvolgimento ma non dite cazzate però non dite io ti amo io vorrei stare con te no tenete sempre un profilo basso dite sempre alla vostra partner che no tu non lascerai mai tuo marito se sei un uomo tu non lascerai la moglie quindi cercate di avvisare prima no cioè se tu fai una cosa del genere vattene a fanculo vai via oh c'è panda in attesa uè panda allò allò e sei d'accordo con le sue regole bah devo essere sincero si a me sembra un po' tante cazzate in modo che almeno la donna o l'uomo si abitua e non si fa strane idee non si illude sesta è l'ultima regola cambiate spesso la vostra tromba amica e il vostro tromba amico non fatelo sempre con lo stesso ogni quattro cinque incontri cambiate cambiate altrimenti si crea si instaura un rapporto relazionale ma questo è il demonio ma questo è il demonio questo è ancora peggio come cazzata cioè vabbè no ma come cioè più o poi finisci il paese dove abiti finisci tutti no questo ok specialmente se abiti in un paese piccolo per carità ma cioè ma lui non è che stai dicendo vabbè se trovi proprio una che ti piace e dici tradisci e buonanotte no no lui cioè è proprio vabbè giustamente ha fatto tutto il preambolo il tradimento è un'arte certo ovviamente però cioè la sua cosa è proprio tradire per il gusto di tradire cioè essere fedeli cioè la sua cosa è mettiti con una nel frattempo fatti le altre cioè per il gusto di farlo perché se mi dici una cosa del genere è perché c'hai il gusto di farlo o sbaglio ma esatto poi come ha detto anche Eroina Gialla in chat cioè per arrivare a quel punto perché cioè termina la relazione fai quello che vuoi eh ma secondo me a lui gli piace sto brivido no di non essere scoperto sì ma poi fai video qua che la gente ti vede e ti sputtani cioè che senso ha ma poi lui la fa facile perché tendenzialmente lui facendo il gigolò se una si mette con lui sa che cosa va incontro capito però il discorso è lui non farà mai in una relazione stabile e in quel caso cosa farà certo dovrà smettere non lo so cioè dipende anche se la ragazza accetta il fatto che lui faccia questo lavoro la vedo difficile però può anche se magari trova una ragazza come lui che fa la stessa cosa che segui sui consigli io spero che la trovi una che segui i suoi consigli una sua iscritta al canale ma no poliamore è differente è differente cioè ti possono piacere avere relazioni con più persone no a livello economico però lo fai liberamente perché il tuo sentimento è quello sì lui lo fa per cose economiche quanto parla solo per quello se no boh non lo so io lo odio io lo odio può essere pericoloso pericoloso perché lei si può innamorare oppure ti innamori tu quindi il traditore seriale quello bravo quello intelligente cambia spesso la partner no no se fai queste cose sei un cretino per me capito nel senso no quello intelligente no ma capito poi magari te le becchi tutte in giro che non sai che sono un gruppo di amiche che ti ah guarda quello me lo sono fatto ah ma anch'io capito è proprio un intelligentone per quale motivo si arriva a tradire secondo voi allora normalmente uno ti dice perché tua relazione magari non va bene trovi un'altra un altro molto bello che ti sta dietro che in quel momento ti fa vacillare cose così però vedendo sto video a questo punto mi viene in mente che per questa gente tradire è un hobby cioè non importa anche se una tizia non ti piace tanto dice vabbè ma ci vado uguale poi per lui mi immagino non sarà difficile trovare delle tizie cioè comunque un chaddone questo ok l'immagine non è curriculum hobby ma tradisco eh sì sì mi diletto nel tradire ogni tanto perché solo così puoi avere il massimo da quella donna o da quell'uomo perché tu hai un bisogno fisico e mentale eco narcisistico la musichetta no quindi tu prendi quello che lei ti dà basta solo quello il resto poi diventa non ci credo che abbia solo la parte sentimentale diventa un incontro monogono con il rapporto matrimoniale e quindi che noia che barba ma non ci credo il momento tradire è uno sporco lavoro ma va fatto bene non improvvisatevi traditori tradire è un'arte e quindi come tale va fatta con il cervello perché il vero traditore è quello che non si lascia coinvolgere che comunque vadano le cose ritorna da dove è partito l'importante è tradire ma essere fedeli a quello che hai già costruito nel tempo il vero traditore è quello che rimane fedele alla propria identità e alle proprie scelte ricordatevelo con questo è tutto cosa stai dicendo ma non ci posso no 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 io no no non poteva chiudere il video peggio no 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 non è possibile non è possibile no 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 cioè è riuscito a mettere una morale in questo video sei in serio con la musica al pianoforte ma notare anche come l'hai fermato il video guarda la faccia furba guardalo cioè ma sei serio ci ha messo realmente una morale con il pianoforte non so non so cosa aggiunger penso che si spieghi tutto da solo ma che c'è ma che cosa c'è da dire ma è una cosa cioè questo è troppo anche per me se uno tradisce perché lì non ci vuol stare punto cioè non torna lì per star male a meno che non è sadico scusa no ma è incredibile che abbia messo una morale su questo cioè è convinto di quello che ha detto capito è convinto è preoccupante la cosa io non non ci posso credere non so non so cosa io non è chatti in lacrime sì io non ci posso credere ma voi direte cioè è finita qua nel senso ha fatto sto video è stato un errore no è stato un errore ha perseverato uno dice vabbè oh ha sbagliato l'avrà fatto montare a un altro che ha messo il pianoforte io qua c'ho una poesia ok sono un gigolò canto intestinale culi tette labbra melodia di testosterone spio l'universo femminile e le sue immense fragilità spingo la mia libertà sul precipizio sono un gigolò preghiera trafitta innesto di solitudine attesa ferita gioco con l'argilla del mio destino creando un pene gigante che cazzo sono un gigolò invento la notte per ogni donna perduta lascio sul mio cammino ordigni di gioia per curiosi dimentico la noglia creativa in un cassetto lancio frecce come speranze nel vento surfando le onde alte del successo sono un gigolò ogni mattina ogni notte ogni volta sono rimasto preso dai peni giganti di argilla mi ha commosso devo dire mi ha toccato nel profondo col pene d'argilla non sapevo cosa dire non mi ha neanche più l'insultato e detto questo ne riparleremo perché stavo scrollando prima al suo canale e c'ha dei video pazzeschi che non possiamo vedere perché sennò stiamo qua fino a domani ragazzi io ringrazio Tecno no grazie a te perché mi sono scassato ormai ti conoscerò a quel piano più del divanetto di Pornhub hai capito? quindi ciao a tutti e poesia ciao belli ciao a tutti ciao